Preghiamolo! Ah già, non sapete niente, per cui... Mi dico io, neanche io lo so di corretto. Credo in un solo Steve Jobs! Personal Computer, creatore dell'ai cielo, dell'ai terra e di tutte le cose tacciabili e intacciabili! Assieme! Ahimek! Ahimek! Forza! Ahimek! Ahimek! E' figo, ce ne sono un sacco! Credo nel solo creatore dell'aiimek, ibook, ipod, ipod, ipod! I feel good! Ahimek! Ahimek! Credo nel profeta dal quale discendono tutti... di mouse! E' sceso sulle nostre scrivanie per le nostre salvezze e si è fatto dopo!